Da molti anni l'azienda Morettini è al fianco dell'Inter, forse sarebbe meglio dire è al fianco del mondo del calcio, in questi giorni se ne è parlato tanto soprattutto perché l'Inter ha cambiato proprietario e sembra aver gradito il prodotto toscano. Sì, noi siamo 25 anni che siamo fornitori ufficiali dell'Inter, questo merito anche del grande mister Trapattoni che 25 anni fa parlò del nostro olio a Pellegrini, il quale apprezzò e da allora è rimasto sempre sulla tavola della pinetina il nostro olio che sembra non gradire. Alla pinetina lei è di casa, ha detto anche magari forse la prossima volta anziché spedire i vari prodotti con il coriore andrà di persona magari per conoscere anche il Presidente. Speriamo di poter iniziare un nuovo canale commerciale anche in Indonesia magari, ho saputo in via informare che ha gradito il nostro prodotto, anche ieri sera si è fatto una bruschetta con il nostro olio. Tra l'altro Morettini accanto all'Inter ma accanto anche ai giocatori, a quella che è la storia del club nerazzurro, si è parlato dell'olio del centenario, soprattutto di giocatori che comunque hanno da sempre gradito il prodotto anche poi quando hanno lasciato i colori nerazzurri. Sì, uno di questi è Cordoba con il quale abbiamo un buon rapporto, anche insomma oltre che l'amicizia al nostro, fra virgolette, cliente ma lo stesso Zanetti del proprio ristorante non disdegna di usare il nostro olio su tavoli.